Il quartiere è presente sul territorio da 5 anni ormai e siamo presenti sul territorio su tanti fronti e su tante esigenze. Parlare di noi significa appunto parlare di un servizio di ascolto e anche di raccolta di donazioni che non vuole assolutamente, nonostante le mie dimissioni da Presidente, mancare a quel senso di responsabilità rivolto verso le tante famiglie che seguiamo ormai negli ultimi 5 anni, abbiamo servito a più di 300 famiglie. Quindi il mio mettere in sicurezza chi ci segue è proprio questo. La cosa che noi ovviamente vogliamo che venga messa in luce è la mancanza di una sede operativa proprio nella città in cui siamo partiti. Abbiamo due sedi operative attualmente, un Assurbo e l'altra Castromediano, che hanno dimostrato come comunità oltre che una presenza proprio motivata anche di solidarietà rivolta alla nostra sede, al nostro portare, al nostro accogliere la nostra comunità di volontari ed essere magari deficitari in una sede proprio operativa nella città di Lecce. Ci aspettiamo e mi aspetto una risposta da parte di chi ha assegnato in maniera magari forse poco chiara i locali che erano destinati a ben 10 associazioni per poter così finalmente e al più presto comunicare a tutti i leccesi, non solo, nonostante le zone arancioni e gialle che hanno in questi mesi, evitato anche, abbiamo dovuto rinunciare a tantissime donazioni perché appunto la gente timorosamente non si muoveva dal proprio centro abitato per raggiungerci, e poter così fare da Lecce a Lecce consegne di vario tipo. Noi raccogliamo di tutto, abbiamo raccolto mobili, abbiamo raccolto vestiario, raccogliamo farmaci, alimenti e attraverso le raccolte alimentari la gente che già ci conosce può realmente e concretamente capire chi sono le angeli di quartiere a Lecce. Grazie. Grazie.